Buongiorno a tutti, oggi parlerò in italiano perché penso sia molto importante a livello della internazionalità di questo luogo, di questo fondo, dimostrare come questo ambiente parigino sia immensamente utilizzato da un gruppo di studiosi internazionali e questo è esattamente il mio caso. Io sono parte di un progetto di dottorato a Venezia, faccio parte di un IRC che si focalizza sull'epistemologia politica e l'epistemologia storica e questo percorso mi ha portato ad interessarmi all'opera di Canguilhem che già conoscevo in precedenza poiché grazie ai forti scambi internazionali che sono presenti tra Francia e Italia, moltissimi studenti italiani hanno l'opportunità di passare sei mesi, un anno in Erasmus in istituzioni francesi. Questo è stato il mio caso in quanto ex studentessa sia di Paris-Anne, quindi dell'Università Sorbonne, Panthéon Sorbonne, sia ex studentessa dell'Ecole Normale Superiore, ho avuto l'occasione di vivere realmente l'ambiente dei fondi e dunque la mia ricerca oggi si focalizza sull'impatto Canguilhemiano in epistemologia politica e in epistemologia storica, facendo particolare attenzione a quello che sono i risvolti medici della idea Canguilhemiana di normatività biologica. Forse come per molti studenti e molti studiosi, l'opera di un autore viene scoperta forse per caso o tramite vie che potremmo dire in italiano traverse, dove traverse è veramente una parola importante in quanto dimostra come la trasversalità di un'opera sia fondamentale. Per esempio in Italia molti studiosi, molti studenti, molti ricercatori giungono all'opera di Canguilhem grazie a Foucault, come avviene in molti casi in Francia o in Spagna. Invece quello che è accaduto a me forse è stato un evento diciamo raro, in quanto io sono giunta a scoprire l'opera Canguilhemiana attraverso Comte, in quanto seguendo un corso del professor Braunstein all'Università di Paris-Anne, che si focalizzava maggiormente sulla frenologia, quindi Bruxelles, e l'opera di Comte, quindi l'opera positivista, il professore decise di leggerci e quindi di assegnarci un piccolo estratto del normale e il patologico che da quel momento diventò uno dei miei maggiori riferimenti. Ritornata in Italia, quindi ho deciso di svolgere la mia tesi triennale, che sarebbe quello che può essere definito in Francia il Memoire de la licence sull'opera di Canguilhem e come ci sia una fondamentale differenza tra l'opera Canguilhemiana e l'opera Foucaultiana, ho poi continuato la mia ricerca nella direzione di una più grande autonomia dell'opera di Canguilhem rispetto ad altri autori e quindi la mia tesi magistrale, quella che potrebbe essere definita qui come il Memoire de Master, si è focalizzato sul concetto di epistemologia storica e normatività biologica nell'opera di Canguilhem e ad oggi svolgo la mia tesi di dottorato, la mia ricerca di dottorato, cercando di riattualizzare questo concetto di normatività biologica a Canguilhem e non penso sia un caso che il mio percorso sia nato proprio da Comte, uno di quei pensatori che viene più allontanato dalla tradizione Canguilhemiana in maniera scorretta, soprattutto in Italia, poiché viene pensato come unico, un forte bersaglio critico insieme a Descartes, quindi insieme alle opere cartesiane, cosa che invece è ora, e penso che questo sia uno dei motivi fondamentali per cui partecipare agli attività francesi, quindi quelle dell'école normale, ma soprattutto di frequentare il fondo per poter leggere le opere Canguilhemiane, di recuperare quella che è veramente una filologia del testo Canguilhemiano dove si possono scoprire in maniera chiara e netta come le posizioni fino ad oggi presentate, soprattutto nella tradizione italiana, forse anche di matrice francese, sono erronee nel vedere sia in Descartes e soprattutto in Comte solamente bersagli critici. Allora, nella mia ricerca è fondamentale, come forse nella ricerca di ogni studioso italiano, avere a che fare con i libri, il libro stampato, l'opera, poiché vi è una netta differenza tra una letteratura critica, che sebbene possa essere puntuale e dimostrare quello che è stato il percorso di un autore, e i riferimenti che possono essere trovati all'interno di trascrizioni, di annotazioni, di, nel caso Canguilhemiano, di corsi universitari fatti dall'autore stesso. Questa ricchezza, che possiamo dire filologica, permette a uno studioso interessato ad un piano storico della filosofia, oltre che semplicemente concettuale, quindi di creazione di nuove idee concetti, di riuscire a creare un percorso da un lato archeologico e dall'altro genealogico, per rubare forse parole fucoltiane, di quelle che sono le più importanti nozioni di Canguilhem. Facendo un esempio potremmo prendere quello di normatività biologica. A lungo il concetto di normatività è stato considerato senza la sua, diciamo, appendice fondamentale biologico, almeno in Italia, e tanto che Canguilhem nella tradizione italiana è passato attraverso una forte martrice, diciamo, di una separazione avvenuta nell'ambito anglofono negli anni settanta, come un normativista, cosa che è assolutamente riduttivo, in quanto Canguilhem non può essere ridotto a un semplice pensatore normativista. Vi sono fondamentali concetti e stesure che dichiarano come il pensiero Canguilhemiano abbia una fortissima traiettoria anche naturalista. Ripensare questo, quindi, alla luce dei testi, significa andare a rileggere in maniera oggettiva, dove per oggettivo si intende senza presupposti, quelle che sono le attenzioni e le sfumature che un autore concede a determinati concetti e ricostruirne una storia. Esempio nuovamente quello di normatività biologica, attraverso l'utilizzo dei fondi possiamo concepire la ricchezza di questo termine che Canguilhem non lo utilizza assolutamente in un ambito medico o filosofico medico, ma viene applicato a tutta una gamma di campi, a partire da quello sociale, come si vede nella seconda parte del normale il patologico, che però per troppo tempo è stata divisa dalla parte biologica, mentre Canguilhem si è interessato infinitamente allo statuto biologico anche nei corsi durante la sua giovane età di professore, allo statuto normativo dell'ambito sociale, anche nei corsi da professore, da giovane professore. E la stessa cosa si potrebbe dire con quello che è stato l'importanza della biologia della normatività. E tutti i testi sulla biologia, corsi completi di quando Canguilhem lavora alla Sorbona, vengono dedicati a come il biologico si inserisce a livello del sociale. Questo per esempio è l'importanza della normatività biologica a livello sociale, sia un'importanza della normatività biologica a livello etico. Tutta la tradizione che spesso, forse alla luce anche dell'importantissimo testo di Braunstein, viene tagliata dell'interesse bioetico canghilemiano o etico canghilemiano nei confronti di quella che è la pratica medica, si fonda sul concetto di normatività biologica come capacità del paziente di re-istituire delle nuove norme, di re-uscire a reinventare la propria condizione e riappropriarsi nuovamente di quello statuto della malattia che ha dato adito a movimenti importantissimi dagli anni settanti in poi, femministi, della comunità LGBTQ+, dei transfemministi, ecologisti. Questo riappropriarsi della corporeità attraverso un discorso biologico e normativo, quindi della ricreazione, è in realtà a livello etico qualcosa che si ritrova in una molteplicità di movimenti. Questo quindi è per quanto riguarda l'ambito prettamente medico, l'ambito sociale, l'ambito etico, ma si potrebbe parlare di una vera e propria normatività politica canghilemiana, poiché canghilem si espone fortemente nei confronti di un'idea di biopolitica negativa che ad oggi, dopo la crisi del covid, è tornata quanto più all'ordine del giorno. Un esempio cardine sono gli scritti di Agambeno, di Esposito, a cui canghilem se fosse in vita sono quasi certa che si opporrebbe nettamente. Dunque il riscoprire attraverso quelle che sono le citazioni, gli scritti, i riferimenti canghilemiani significa attraverso un fondo, attraverso la possibilità di maneggiare, leggere, riproporre quello che è l'idea di un autore nella sua complessità, quindi nella sua connessione con tutti i testi. E questo serve per non rendere un autore, potremmo dire, impolverato, qualcosa da museo, cioè che viene osservato, guardato e letto senza riproporlo e ripensarlo nel presente. Questa è la grande forza di un fondo, la forza di poter riattualizzare il pensiero di un autore. Quello che ha detto canghilem può servirci oggi? Sì, assolutamente. Questo è quello, è la forza di andare a ricercare le informazioni direttamente da canghilem e non da qualcuno che ci dice che cosa ha detto canghilem. Mi piacerebbe presentare questo testo di canghilem in italiano poiché rappresenta uno di quelle tematiche, forse dimenticate, come dicevamo prima, che è quella dell'etica medica. Canghilem propone questo testo in una conferenza tenuta negli ultimi anni della sua vita, intitolata Ethique Medicale, conservata al fondo cafès, e canghilem scrive quando la salute è diventata oggetto della scienza, la santé intesa in senso ampio, oggetto della scienza, quindi medicina scientifica, causa ed effetto dello sviluppo e della moltiplicazione dei laboratori per gli esami clinici e gli esperimenti, alla riverenza ipocratica per il singolo paziente è subentrata la ricerca della legge generale di cui egli è un caso. L'effetto sociale di questa rivoluzione è l'industrializzazione della farmacopea, il cui effetto oggi ben consolidato è che la gente va dal farmacista come dal droghiere, ma prima di tutto è la rivoluzione dell'istituzione ospedaliera. Io ci tenevo a presentare questo piccolo passo per due motivi, uno per ritornare all'idea principale da cui sono partita, ovvero che la tradizione spesso fa arrivare gli studenti, gli studiosi a Canghilem attraverso Foucault. Canghilem è soprattutto per l'interesse che Foucault produce e l'ammirazione rispetto a certe tematiche sulla pensare i rapporti di potere. Ho scelto questo piccolo passo perché Canghilem già dagli anni 60, esattamente nel 63, comincia a parlare dei rapporti tra il potere e la medicina e lo fa con un'intensità e con una cume veramente particolare. Perché? Perché non si lascia travolgere dall'idea che ci sia una medicalizzazione completa della società, che spesso si è sentito appunto oggi nelle riviste di coloro, i critici dei vaccini, i critici delle pratiche di contenimento della pandemia globale e coloro che criticavano la società come un grandissimo potere negativo che volgeva solo alla limitazione dell'individuo. Canghilem non si è mai posto in queste condizioni. Dall'altra parte Canghilem è molto attento a sottolineare come ci sia un intensissimo rapporto tra quello che è l'economia capitalista che spinge al progresso medico inteso come produttività e diminuzione del tempo di trattamento di un paziente e l'iperproduttività a livello farmacologico, cioè della ricerca di sempre nuovi modelli e nuove molecole per poter curare, insieme a quello che è appunto la pratica di cura, la pratica medica. Cioè Canghilem da una parte evita la medicalizzazione, cioè dice non esiste una società semplicemente cattiva che medicalizza tutto, dall'altra parte dice bisogna stare attenti perché c'è una tendenza all'ipermedicalizzazione che non è semplicemente frutto di quella che è la pratica medica standard. Poiché c'era Ippocrate per esempio prima e la medicina ipocratica non si basa su un'iperproduttività ma segue quello che è un'idea di natura della malattia, natura del corpo, come possiamo trovare per esempio negli scritti sulla medicina di Canghilem. E questa medicalizzazione proviene direttamente da quella che è la nostra economia liberale, neoliberale, capitalista. E quindi Canghilem dice nel momento in cui vogliamo cambiare quella che è una delle più importanti pratiche ad oggi, quella medica, dopo che si è passati a gestire non più l'individuo ma la popolazione, quindi la medicina diventa effettivamente qualcosa che ha a che fare con una intera popolazione, dobbiamo domandarci se sia semplicemente qualcosa di medico, qualcosa di sistema medico o se piuttosto dobbiamo interrogarci su quale siano i sistemi politici, economici che spingono la nostra pratica medica verso una direzione che ad oggi è quella della completa, messa tra parentesi, dice Canghilem del paziente. E Canghilem sostiene proprio dopo questo passo che la cosa principale da fare non sia rivedere una totale deistituzionalizzazione della medicina, un po' come pensa uno dei suoi acerrimi nemici Ivan Illich, ma una rivoluzione fra virgolette politica di quello che è l'impatto medico sulla popolazione, ovvero modificando quelle che sono le economie che stanno dietro la medicina allora potrebbe modificarsi l'ambito medico. E questo implica anche una riproposizione dell'importanza individuale e clinica del paziente, un recupero del rapporto singolare del paziente, l'attenzione al paziente, la modificazione dei tempi della medicina, un rallentamento delle pratiche, una esternalizzazione di quelle che sono le volontà del paziente, la volontà del medico e quindi una riumanizzazione in un certo senso, una risoggettivazione anche del trattamento medico.